Musica Operazione antimafia nel Catanese 10 indagati per estorsione aggravata, acquiste e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato Ucraina, terra di confine, a Palermo il festival per supportare il popolo ucraino sconvolto dalla guerra Una vera e propria chiamata alle arti Nuova udienza a Caltanissetta al processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio Sentita come teste l'ex legale di Scarantino La Commissione regionale antimafia ha presentato la relazione sulla condizione minorile in Sicilia All'arsenale della Marina Reggia di Palermo ha presentato il libro catalogo della mostra su Sebastiano Tusa Bentrovati alla prima edizione del Tg di Media News di giovedì 10 marzo Apriamo con la cronaca Operazione antimafia nel Catanese I carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 10 indagati Ritenuti a vario titolo i presunti autori dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso Acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato Vediamo il servizio Operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Catania Hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 10 indagati Ritenuti a vario titolo i presunti autori dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso Acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato 6 persone finite in carcere 4 sottoposte all'obbligo di dimora I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Catania Su richiesta della DDA L'indagine denominata The Gift, coordinata dalla DDA di Catania condotta dai carabinieri di Mister Bianco dall'ottobre al dicembre del 2020, ha consentito di accertare una serie di estorsioni messe a segno con modalità tipiche delle consorterie mafiose ai danni del titolare di un'autocarosseria e di una concessionaria di auto, entrambe di Mister Bianco. Le estorsioni scattavano per mantenere alcuni detenuti in carcere e garantire protezione alle attività commerciali prese di mira a fronte del pagamento di denaro da versare con cadenza mensile. Le indagini hanno permesso di quantificare gli illeciti delle estorsioni in circa 5.200 euro. Gli investigatori hanno proceduto inoltre all'arresto in flagranza di reato di uno dei responsabili delle estorsioni, nonché al fermo d'indiziato di delitto di un altro, entrambi già condannati a 4 anni e 6 mesi. L'attività investigativa ha inoltre fatto emergere ulteriori episodi estorsivi commessi ai danni di privati cittadini, vittime inizialmente di furti di veicoli e successivamente di estorsione con il metodo del cavallo di ritorno, i quali per rientrare in tempi brevi in possesso del loro veicolo si rivolgevano ad alcuni intermediari che si attivavano per garantire la restituzione del mezzo al legittimo proprietario dietro pagamento di denaro. Non mancavano le attività legate alla detenzione, acquista e cessione di sostanze stupefacenti, una poliedricità criminale che passava dalle estorsioni a carico di commercianti all'acquisto all'ingrosso di droga per rifornire le piazze di spaccio del capoluogo Etneo e dell'Interland catanese. Continuiamo con la cronaca blitz nei cantieri edili di Palermo e provincia, 10 denunce e sanzioni per oltre 240 mila euro. Ispezioni in diverse aziende edili presenti a Palermo e provincia sono state effettuate dai carabinieri del nucleo operativo e dal nucleo ispettorato del lavoro del capoluogo siciliano nell'ambito della campagna nazionale per i controlli straordinari nel settore dell'edilizia. 5 i cantieri risultati irregolari, decine i lavoratori sottoposti a controllo di cui due in nero. In tutti i casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro esenti nel nuovo decreto 146 del 2021, misure urgenti in materia economica fiscale a tutela del lavoro emanato dal governo. 10 trattatori di lavoro irresponsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria a vario titolo per violazione delle norme di sicurezza basilari a tutela di ogni lavoratore, ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione di informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione del personale a visite medico-obbligatorie. Le sanzioni ammontano complessivamente ad oltre 240 mila euro. Cambiamo argomento. Ucraina, terra di confine. A Palermo il festival per supportare il popolo ucraino sconvolto dalla guerra. Una vera e propria chiamata alle arti che durerà un mese, afferma Mario Zito, assessore alle culture del comune di Palermo. Abbiamo per la giornata di domani un festival della cultura ucraina che avrà la durata di un mese con tutta una serie di eventi, proiezioni di cinema, di film ucraini, una mostra di fotografie, anzi più mostre di fotografie, presentazioni di libri, insomma tutta una serie di eventi che ci raccontano il volto vero dell'Ucraina. La cultura ucraina. Perché io ho voluto chiamarla chiamata alle arti? Perché attraverso questo festival che già era stato programmato ma che ora ha un'attualità incredibile, abbiamo chiamato a raccolta tutte le istituzioni culturali della città e c'è stata una risposta incredibile, una risposta immediata. Il festival porta dei patrocini importantissimi. Io ritengo che ci sono tutte le istituzioni culturali e colgo l'occasione per chiedere scusa a tutte le istituzioni che non abbiamo potuto inserire nella locandina ma perché è stata velocissima la preparazione e il lancio di questo festival che diventa purtroppo dura realtà. E' una lettura della cultura ucraina molto attuale per tutto ciò che sta accadendo. Noi come istituzioni culturali, come mondo artistico possiamo rispondere con quelli che sono i nostri strumenti. E come ripeto spesso gli strumenti degli artisti sono i pennelli, la musica, lo strumento musicale o il proprio corpo quando si danza. E con la convinzione che veramente l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. L'idea del festival è nata proprio due settimane fa, pochi giorni prima della guerra. Da questo pensiero che noi come i cittadini e pure come gli operatori culturali che possiamo fare. Il nostro fronte è il fronte culturale, quindi magari possiamo offrire questa ricca, molto interessante scena contemporanea dell'arte ucraina. E così facciamo. Il festival si sviluppa durante un mese in vari luoghi a Palermo, tra cui la mostra fotografica a Palazzo Sant'Elia, dalle 11 fino al 31 marzo, quattro film al Cinema de Seta, poi la presentazione del libro a ZAC Centrale e altre varie attività che speriamo altre istituzioni culturali con cui vogliono contribuire. In collaborazione con l'amministrazione di Villa Abate, le scuole pubbliche e private hanno indetto una manifestazione in Piazza della Regione per un momento di riflessione comune per il popolo ucraino. Sono qui in nome per conto del liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo, con una rappresentanza di ragazzi che si sono mobilitati di loro iniziativa per raccogliere alimenti e anche beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco e la persona dell'assessore perché sono stati tramite, perché noi siamo una scuola extraterritoriale, però ci ha fatto piacere essere presenti in questa giornata per questa manifestazione. Lo slogan della nostra scuola è Un cuore e un'anima soli per l'Ucraina, per la gente che soffre in Ucraina. Per quanto riguarda la pace, la guerra, molti di loro si sono trovati molto sensibili a queste situazioni, si sono trovati molto vicini ai loro fratelli ucraini, che praticamente sono costretti a non andare a scuola, a non poter usufruire di quella pace necessaria per crescere in un ambiente sereno. E loro si sono trovati appunto sensibilizzati, ma non ci sono state grandissime cose da fare, perché li abbiamo trovati veramente pronti a recepire qualsiasi iniziativa. Noi abbiamo proposto, ma devo essere molto più contenta, perché molte iniziative sono arrivate direttamente dai ragazzi, che si sono mostrati appunto sensibili e coscienti di quello che sta succedendo. La protezione civile a livello comunale, regionale, nazionale e internazionale sta dando il massimo contributo che può fare. Cerchiamo di aiutare, cerchiamo di fare il possibile. È un impegno difficile, tantissimi operatori sono in strada e seguendo tutte le norme di sicurezza cerchiamo di dare veramente il massimo. Speriamo che questa situazione non degenere ulteriormente e anzi pian pianino tenda a ritornare alla normalità. Ognuno di noi può essere davvero un portatore di pace se si impegna giorno per giorno per spegnere questi piccoli focolai. Dicevo proprio ai ragazzi, le grandi guerre non scoppiano dall'oggi al domani, ma sono proprio frutto di odio, inimicizie, invidie che covano dentro i nostri cuori e che poi si estrinsegano con queste manifestazioni che sono davvero abberranti. Immaginare nel 2022 un conflitto di questa portata alle porte della nostra Europa è davvero una cosa inconcepibile e assurda. Allora davvero impieghiamo tutte quelle che sono le nostre risorse per poter dare un contributo fattivo per questa nostra società, per un mondo migliore, per un mondo di bene. Oggi grazie alle scuole sia pubbliche che private lanciamo un bellissimo messaggio che è quello del no alla guerra. Da Villabate, così come in tutta Europa, in questo momento si manifesta per chiedere alla Russia di interrompere le azioni belliche. Questo è il messaggio che volevamo lanciare, quello più importante. Quindi ne approfitto tra l'altro per lanciare anche un messaggio io verso le famiglie villabatesi, così come faranno i bambini a casa per raccogliere generi alimentari, indumenti e medicine da mandare in Ucrania. Ecco, da Villabate oggi parte l'ennesimo messaggio di orgoglio verso il no alla guerra e viva la pace. Iniziativa di solidarietà a Carini in favore della popolazione dell'Ucraina. Lunedì 14 marzo, dalle 16 alle 19, tutti coloro che effettueranno la spesa presso il Conad Mercato Serra Cardillo di Carini potranno contribuire alla raccolta di beni di prima necessità per dare un contributo a bambini, donne e uomini in difficoltà a causa dello stato di guerra. Sarà possibile acquistare beni indicati dai volontari delle Crocerossine d'Italia e dall'Associazione Volontaria Nazionale Fante presenti sul posto per poi consegnarli agli stessi volontari che attraverso gli enti preposti spediranno tutto in Ucraina. Covid, bollettino settimanale. In Sicilia, curva epidemica e ospedalizzazione ancora in discesa. Da oggi si può tornare a fare visita ai parenti ricoverati in ospedale. Vediamo. Curva epidemica in discesa per la quinta settimana consecutiva e prosegue il trend degli ultimi due mesi con la flessione costante delle nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti ricoverati risultano non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto. Nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo l'incidenza di nuovi casi è pari al 31.257, meno 4,86%. Messina, Grigento e Ragusa sono le province che negli ultimi sette giorni hanno fatto registrare il maggior numero di positivi, mentre le fasce d'età più a rischio restano ancora quelle più giovani. tra gli 11 e i 13 anni 1.315 su 100.000 abitanti, tra 6 e 10 anni 1.255 su 100.000 e tra i 14 e i 18 anni 1.300 su 100.000. Sul fronte della campagna vaccinale i dati in esame riguardano la settimana dal 2 all'8 marzo. Nella fascia di età, 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,15% del target regionale, mentre 71.546 bambini, pari al 22,72%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose sono l'89,74%. La percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'88,13%. Resta ancora da vaccinare, quindi, il 10,26% del target. Sono 873.405 siciliani che, pur potendosi sottoporre a somministrazione, non hanno ancora ricevuto la dose booster. Complessivamente, infatti, i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.577.833, pari al 74,69% degli aventi diritto. Inoltre, è disponibile dal 28 febbraio presso i centri vaccinali di ogni provincia anche il vaccino Novavax. A marzo è iniziata anche la somministrazione della dose di richiamo per gli over 12, con marcata compromissione della risposta immunitaria che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dall'inizio del mese sono state seguite 183 somministrazioni di quarta dose e 553 del vaccino Novavax. Infine, da oggi si può tornare a far visita in ospedale ai parenti, si può stare 45 minuti nel reparti, ma occorre essere vaccinati con tripla dose. Cambiamo argomento, nuova udienza a Caltanissetta al processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, sentita come test l'ex legale del falso pentito Vincenzo Scarantino. Nuova udienza a Caltanissetta al processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Ieri, ad essere ascoltata come testa, è Lucia Falzone, per anni, legale di Vincenzo Scarantino, il falso pentito, che nel 92 si era accusato di aver preso parte alla strage di Via D'Amelio, rivelando alcuni particolari per poi ritrattare tutto nel 98. Il processo vede imputati tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex rappresentanti del gruppo Falcone Borsellino che indagò sull'attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. I poliziotti, accusati di calunnia in concorso, aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra, erano tutti presenti in aula. Secondo l'accusa, avrebbero indotto Scarantino a fare false rivelazioni allo scopo di depistare le indagini e far ricadere le accuse su innocenti che furono poi condannati. L'avvocato Falzone, però, rispondendo alle domande del presidente del Tribunale di Caltanissetta, Francesco D'Arrigo, ha dichiarato Vincenzo Scarantino quando era il mio assistito non mi parlò mai né di maltrattamenti che avrebbe subito in carcere né di avere avuto pressioni da parte di poliziotti. La legale ha poi sottolineato, sollecitata dall'avvocato Giuseppe Scozzola, se Scarantino fosse stato in possesso dei verbali sicuramente gli avrei chiesto come li aveva avuti. Era concentrato solo sulle sue lamentele personali, la paura che lo ammazzassero o gli ammazzassero i familiari. Aveva costante la sua sicurezza personale e quella dei suoi parenti. Sentiva molto la pressione addosso. Dopo le sue confessioni Vincenzo Scarantino aveva subito fatto marcia indietro affidando alle telecamere di studio aperto la sua verità. Il processo continua ma restano tanti i punti oscuri sulle dichiarazioni di quel picciotto della guadagna e la verità sulla strage sembra ancora lontana. Rintremo in studio la commissione regionale antimafia ha presentato la relazione sulla condizione minorile in Sicilia con particolare riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e dei rischi di reclutamento di giovani da parte della criminalità organizzata. Non copriamo nulla di nuovo ci sono alcune zone periferiche Osperone e due quartiere Lozen dove il disagio sociale è anche un disagio abitativo è un disagio esistenziale in senso più complessivo quando l'unica presenza delle istituzioni è la scuola la caserma di Carabinia e il commissariato quando ci sono e il lavoro prezioso e faticoso fanno molte associazioni del terzo settore è chiaro che le condizioni di solitudine di marginalità determinano anche poi una grande vulnerabilità per cui chi si presenta pronto a offrirti un po' più d'attenzione anche un po' più come dire di rispetto diventa immediatamente un seduttore un seduttore facile lo Stato non c'è non c'è diciamo la società questi ragazzi quando da Librino o dallo Sperone devono andare a Catania o a Palermo è come se dovessero andare in un'altra città che è fisicamente lontana e non è un caso che noi abbiamo una diffusione una percentuale della dispersione scolastica tutto sommato non altissima in Sicilia ma con una concentrazione tragicamente alta in alcuni quartieri dove a volte si supera il 60-65% cioè un ragazzo arriva alla terza media e la si ferma ma si ferma perché la vita è lontana non sono soltanto lontane le scuole superiori è lontana l'idea della città e di fronte a tutto questo la risposta è una risposta incerta claudicante lenta burocratica infinitamente al di sotto della necessità Università nuovi fondi dalla regione per alta formazione e ricerca risorse fino a 7,5 milioni di euro in Sicilia si torna ad investire su alta formazione e ricerca dall'assessorato regionale dell'istruzione della formazione professionale sono in arrivo 7,5 milioni di euro a sostegno della ricerca universitaria con l'avviso 6 2022 per il rafforzamento del sistema di ricerca universitario in Sicilia mediante azioni di reclutamento a tempo determinato la regione mira a promuovere il rafforzamento delle sinergie fra alta formazione ricerca professioni e contesto produttivo per favorire la crescita accademica di giovani studiosi e per qualificarne l'inserimento nel mondo dell'impresa innovativa come governo regionale stiamo continuando a portare avanti azioni per contrastare la fuga di cervelli dalla Sicilia in particolare con questo nuovo avviso finanzieremo la ricerca scientifica e l'alta formazione dichiara l'assessore Roberto Lagalla stanziando risorse per permettere agli Atenei siciliani di incrementare il loro investimento sul rinnovo di contratti a tempo determinato per ricercatori e sugli assegni di ricerca sostenere l'alta formazione significa puntare sull'innalzamento delle competenze e offrire maggiori opportunità a dottorandi e ricercatori universitari che ogni giorno lavorano per promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico della Sicilia aumentare le possibilità di lavoro e di crescita professionale per i giovani studiosi ha concluso la Galla contribuisce anche ad invertire la tendenza all'esodo dei nostri giovani le risorse bandite saranno assegnate alle università siciliane statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca i fondi stanziati potranno essere utilizzati sia per stipulare contratti a tempo determinato di durata biennale rivolti a ricercatori che abbiano già maturato esperienza nel campo della ricerca di base e o applicata sia per assegni di ricerca di durata annuale su progetti da realizzare anche in collaborazione con enti di ricerca imprese o altri soggetti la scadenza è prevista per il prossimo 19 aprile sarà inaugurato domani a Palermo alla scuola Piazzi in via Rutelli il murale realizzato da Igor Scalisi Palminteri dedicato al giudice Cesare Terranova e al maresciallo della polizia di stato Lenin Mancuso entrambi trucidati dalla mafia il 25 settembre del 1979 non dimenticare le vittime forse meno note purtroppo non per colpa loro perché il sangue versato credo che sia uguale per tutti perché molte volte il circuito mediatico oppure la coscienza delle persone attraverso il circuito mediatico che non è sollecitato dimenticano facilmente chi sono gli altri non sono soltanto due o tre le vittime ma sono purtroppo decine e su questo bisogna fare mente locale perché le nostre vittime hanno due esigenze quelle di ottenere giustizia e quelle di essere ricordate per cui questo murale è dedicato a tutte le vittime in assoluto è vero che raffigurano Lenin Mancuso e Cesare Terranova ma il significato insomma morale del murale è quello di dire che questa città purtroppo ha versato tanta sangue innocente che questo sangue va ricordato e chi lo ha versato va trattato come degnamente merita di essere un eroe ricordiamo chi era suo papà e chi era il giudice Terranova mio padre era il merisciano della polizia di stato Lenin Mancuso credo che il nome sia abbastanza significativo per capire quale tendenza e quale deve essere Cesare Terranova era uno dei più brillanti magistrati del suo periodo diciamo che era l'uomo magistrato antimafia per eccellenza e quando si conobbero con mio padre vent'anni prima e dalla loro morte iniziarono a collaborare per quello che era quel filone che portava all'individuazione dei corranesi a loro pericolosità all'evoluzione della mafia in quegli anni che da mafia rurale da mafia del feudo si era trasformata in mafia dell'edilizia dell'eroina e che era diventato un centro di potere a tutti gli effetti con le connessioni perverse che c'è la mafia tra potere militare che è quello dei rini e dei provenzani il potere economico che è dei grossi banchieri dell'alta borghesia e di apparati dello stato deviati entrambi caddero insieme sotto il fuoco dei killer mafiosi loro collaborazione l'ho iniziato vent'anni prima hanno fatto indagini molto delicate tra cui quella purtroppo ai mesi ma tristemente famosa del moscio di marsala quell'infame che uccise tre bambine la loro collaborazione ormai era diventata iniscindibile era un rapporto di amicizia di affetto e purtroppo il destino volle che cadessero insieme peraltro quando mio padre venne ferito a morte durante l'agguato e Terranova stava a essere colpito mio padre come estremo atto di coraggio e di attaccamento al suo amico Cesare gli si buttò addosso e si prese per altri colpi morirono insieme ma noi li ricordiamo sempre insieme perché sappiamo che loro sono l'emblema di quello che significa il rapporto tra l'uomo per bene l'uomo che lotta per la giustizia e quindi che dà il suo sangue per fare sì che si possa evolvere in società nella maniera migliore è emergenza sicurezza in via puntale arena a Messina una strada dimenticata a detta dei residenti lei stesso sta notando che per salire qua sopra i mezzi di emergenza è proprio una cosa assurda due anni fa si è andata a fuoco qua alla miniera i pompieri non hanno potuto intervenire perché non c'era né acqua non avevamo né acqua sono state fatte adesso non avevamo le strade perché non ci sono strade hanno fatto quella d'emergenza che non penso che sia una strada d'emergenza quella neanche a piedi si può fare quella strada perché è pericolosa quando si può congiungere una stradella che sarebbe neanche 10 metri quella strada sotto questa strada c'è una grotta che il terreno negli anni da quando è stata fatta la prima volta negli anni se n'è sceso anche per colpa delle perdite di acqua dal tubo dell'acquedotto e se n'è sceso di conseguenza questa strada è come se fosse una soletta prima o poi la strada si appoggerà se ne scende già si vedono che si è aperta ci sono tante grepe che si sono formate noi rischiamo di essere totalmente isolati più di quanto lo siamo adesso perché un mezzo di soccorso che siano vigili del fuoco che siano ad ambulanza qua sopra non ci sale perché la strada è quella che è è stretta un mezzo più grande non può salire infatti due anni fa c'è stato un incendio e l'autobot si è dovuto fermare nella strada San Corato che è la via Punta Larena si collega alla via San Corato e la via San Corato arriva a Gravedelle è una strada bellissima e il mezzo di soccorso si è dovuto fermare là sotto e noi con i nostri poco acqua nei sebbatoi abbiamo cercato di spegnere qua sopra bisogna allargare le strade così che la gente può parcheggiarsi la macchina e resta abbastanza spazio per fare salire un'ambulanza perché è quello il problema se queste persone che abitano qui hanno bisogno di un'ambulanza sono poveracci perché mio padre ha dovuto portare mia madre una volta perché l'ambulanza non è voluta salire la mattina alle 4 di notte lui poverino 89 anni ha dovuto portare mia madre con la macchina fino lì perché l'ambulanza non voleva salire ergo il problema è la strada troppo stretta allargate la strada fatela un metro e mezzo o due metri più larga che c'è posto per tutti giornata dei beni culturali siciliani all'arsenale della Marina Regia di Palermo presentato il libro catalogo della mostra su Sebastiano Tusa il grande archeologo e assessore regionale dei beni culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo del 2019 un giorno importante il 10 marzo perché il presidente della regione presidente Musumesci ha voluto istituire la giornata dei beni culturali siciliani oggi si entra gratuitamente in tutti i luoghi della cultura della regione siciliana e qui all'arsenale della Marina Regia a Palermo ricordiamo Sebastiano Tusa presentando il catalogo della grande mostra che è in corso fino a dicembre proprio qui all'arsenale che è il cuore il quartier generale della soprintendenza del mare di quell'istituto voluto proprio da Sebastiano Tusa e lo ricordiamo con i suoi collaboratori con i suoi amici con i subacui con coloro che lavorarono insieme a lui ecco lo facciamo presentando i frutti del suo lavoro presentando questa mostra con una pubblicazione importante e invito tutti a venire a visitare questa importante esposizione Sebastiano Tusa è morto fisicamente ma ha lasciato un'eredità che appartiene a tutti appartiene a tutta la Sicilia e a coloro che amano la bellezza e che amano la cultura il dedicare questa giornata a Sebastiano e ai beni culturali in generale vuol dire riappropriarci di un patrimonio farlo ciascuno di noi nostro e insegnare questo amore anche a chi viene dopo di noi ai ragazzi alle nuove generazioni mi stanno arrivando telefonate da diversi luoghi della cultura in cui ci dicono che sono tanti ragazzi che questa mattina stanno visitando musei e parchi archeologici ecco questa è la nostra vittoria da siciliani è stata inaugurata ieri sera presso la Real Fonderia alla Cala Palermo vibrazioni colorate la mostra personale dell'artista siciliano Rosario Genduso l'artista 57enne attraverso l'uso del colore riesce a far coincidere emozione e significato grazie allo stretto connubio con la sua terra la Sicilia allora questa è una delle mie prime iniziative a Palermo e mi sembrava diciamo doverosa intanto ringraziare l'assessore Mario Zito e il consigliere Marcello Susino che mi hanno diciamo instradato e collaborato è aiutato tantissimo affinché si potesse realizzare questa mostra qui a Palermo alla Real Fonderia e il patrocinio del comune in quel caso è stato fondamentale mi ha aiutato tantissimo sono felicissimo per come è andata e fra l'altro ho presentato la mostra il mio grande amico e direttore del museo di Gibellina Enzo Fiammetta che ringrazio dovendo parlare un attimino delle mie opere posso dire che io mi ritengo intanto un artista emergente eclettico nel senso che io amo molto i colori quindi il comune denominatore di queste mie opere sono assolutamente i colori e per questo è un'esperienza di stamattina ho fatto scrivere degli appunti in relazione alle persone che hanno visitato la mostra per le sensazioni provate nell'ambito della stessa e mi ha colpito una signora che non conoscevo e ha scritto mostra coloratissima che rende felici anche chi è triste questo è il messaggio che voglio dare con le mie opere creando degli spazi di colore che sono parte materia parte natura parte il mio io l'anima insomma che ho relativa a questi colori che amo da morire quindi vorrei riuscire a regalare un sorriso da questo punto di vista è una ventata in questo periodo assolutamente da dimenticare col colore Martin Luther King diceva se non riesce a fare grandi cose fanne di piccolo in maniera fantastica e anche per oggi è tutto vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News che si non riesce a fare grandi cose che si Autore dei sovrapposti